L'Aquila si prepara alla visita di Papa Francesco, il primo Papa che aprirà la Porta Santa di Colle Maggio, eccezionalmente di mattina, il 28 agosto, per la perdonanza. Una visita di 5 ore, con poche tappe ma significative, il cantiere del Duomo con l'abbraccio in piazza alle famiglie delle vittime del sisma, sino alla messa sul sagrato di Colle Maggio con l'Angelus in Mondovisione e il rito di apertura della Porta Santa. L'organizzazione è in fermento, la Gendarmeria Vaticana ha già effettuato con il Cardinale Petrocchi e il Vescovo Osiliare d'Angelo un primo sopralluogo per definire i dettagli tecnici, come l'uso di una pedana aggiuntiva per il palco della messa con un accesso facilitato. Le domande che ci si fanno e sulle quali si sta ragionando sono tante, anche quella relativa al corteo che in genere accompagna la bolla a Colle Maggio. Quella dei Vespri era una tradizione contadina. Oggettivamente siamo di fronte a un momento storico, quindi di fronte a un momento storico tutto si può fare in questa direzione. Non è una mutazione sostanziale quella dell'apertura della Porta Santa al mattino, almeno nel merito del percorso della perdonanza, perché in ogni caso noi abbiamo un inquadramento all'interno delle 24 ore che sono previste per quanto riguarda il cosiddetto giubileo alguirano. Il corteo ritengo che troverà le forme per essere regolarmente costituito e per compiere il rito del trasferimento della bolla. Adesso capiremo se questo dovrà essere anticipato, se dovrà essere organizzato in maniera leggermente diversa. Si tratta di un evento assolutamente straordinario, epocale, che metterà davvero l'Aquila al centro del mondo. Il primo Papa che apre la Porta Santa, ma il rapporto dei pontefici con l'Abruzzo è sempre stato speciale. Basta ricordare l'amore per il Gran Sasso di Papa Giovanni Palo II, ma anche di Benedetto XVI, che ha compiuto diversi viaggi in Abruzzo, ben cinque, anche nell'immediato post-sisma. Intanto la direzione artistica della perdonanza, come già anticipato da Rete 8, sarà firmata ancora una volta dal maestro Leonardo De Amicis. In una dimensione in cui l'UNESCO è l'organizzazione internazionale che promuove la pace attraverso i processi culturali, non può che esserci una fusione di intenti all'interno di questa situazione, perché è evidente che l'Aquila diventa una capitale mondiale della pace.